Questa regina del Tisic si chiama Miss, dicevo lei di camuola, rappresenterà un bijou nel manichino, un manichino portagioglio, perché in fin dei conti come si può conquistare una donna nel 2016, quando il femminismo ci ha fatto fare dei grandi passi avanti, come conquistare una donna, naturalmente con un oro, gioiello e diamanti. Signori e signori, Miss Joelle d'Amour! It is a fact and understood, that when you hold me tight it tells me lots of good, so do me good, do it like me, do me good, do it like me, do me good, do it like me, do me good, do it like me. It is a fact and understood, that when you kiss me, you get me like me don't want, so kiss me good, do it like me, do it like me, do it like me, do it like me. Kiss me good, do it like me, do it like me. Kiss me good, kiss me good, do it like me. Do me, do me, do me, girl You're not treating me the way you should And baby, it's getting me sad Baby, you're driving me mad Baby, don't treat me so bad It is a fact, I understand The way you love me, you love me, that's a good So do me good, good, baby Do me good, good, baby Grazie a tutti 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 Grazie a tutti